Allora, nel 95, e qui ci tengo con grande orgoglio, scrivo questa canzone che se l'ascolto oggi dico, mi sono fatto paura da solo, perché quando scrivo questa canzone non esistevano neanche i videofonini, perché nel 95 il telefono è una roba che si può solo telefonare, incredibile, e scrivo questa canzone dedicata ai giovani, una canzone per i giovani che così passano le giornate annoiandosi. Questa canzone uscì, passò due volte in radio e fu censurata dicendo che incitava i giovani alla violenza, in realtà era esattamente l'opposto, ma se lo vediamo non lo capisci, sono cazzi tuoi, perché non è un problema mio. La canzone censurata si intitola, filma, voce del verbo filmare, e faceva più o meno così. C'è chi dice che siamo cattivi, c'è chi dice che siamo violenti, c'è chi dice che siamo scontenti, ma siamo solo deficienti. Filma, inquadrami la faccia così. E ci si filma, mi prendi anche le braccia, più su così dai, questa sera con gli amichetti miei, andiamo su, cavalca via, e giochiamo a chi colpirà. Un'auto nera targata va via, simfonia, dai, e tu intanto filma. Inquadrami la mano con la pietra così, ok, filma, dai, e poi ci rivediamo giù al bar, ok. C'è chi dice che siamo cattivi, c'è chi dice che siamo violenti, c'è chi dice che siamo scontenti, ma siamo solo deficienti. E c'è chi parla di emarginazione, e dà la colpa alla televisione, ma noi non siamo amiche delinquenti, siamo un gruppo di studenti. Questa sera con gli amichetti miei, aspettiamo sulla figlia, e giochiamo a chi violenta era, dai, la prima ragazza che passa di qua, sì, sì, di qua, dai, e tu intanto filma, riprendi la sua faccia, così mentre piange, bravo, filma, dai, che poi ci divertiamo giù al bar, ok, vai. E c'è chi dice che siamo aggressivi, e c'è chi dice che siamo passivi, e c'è chi dice che siamo tementi, e siamo tutti santo i menti, e c'è chi dà la colpa ai genitori, e poi ci parla sempre di valori, ma che non siamo amiche assassini, siamo solo dei bambini. Questa sera con gli amichetti miei, andiamo tutti a casa mia, dai, a massacrare mia mamma e mio papà, prendiamo i soldi, e andiamo via, dai, andiamo via, sì, e tu intanto filma, riprendi la mia mamma, così sembra che dorme, filma, dai, e poi ci divertiamo, giù al bar, ok, a chi dice che siamo cantini, a chi dice che siamo violenti, a chi dice che siamo scontenti, allora li rispondiamo, con un calcio in mezzo ai denti, filma, filma, infadrami il piede sulla bocca, così dai, filma, dai, e poi ci rivediamo, giù al bar, ok, filma, nip, 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 nip. Grazie a tutti.